La ciurma di cappello di paglia viene a conoscenza delle loro nuove taglie mentre sono in viaggio, suscitando reazioni diverse. Nel frattempo, sull'isola Fanfaron, Crocodile e Mioca hanno salvato Veggie dalla marina dal quale si erano in realtà recati per riscuotere il debito del clown pirata. Quest'ultimo, senza un soldo, aveva quindi offerto i suoi sottoposti per fondare la Coas Guild. Al presente, Crocodile è furibondo con Veggie per i manifesti che dipingono il clown pirata come capo, ma Mioca fa notare che in questo modo sarà lui il bersaglio della marina. Quest'ultima, infatti, considera Veggie un periconosissimo pirata al pari di Shanks, affidando a lui, Mioca e Crocodile taglie stratosferiche. Qui di seguito le taglie della ciurma dopo l'assedio a Wano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.